eccoci qui per una nuova puntata eurovision song contest Gigi Giancursi e Federico Sacchi we are domi repubblica cieca lights off we are domi cosa significa Alessio Lerda cosa significa we are domi devi sapere che ho cercato con google translate in cieco cosa significa domi e sai cosa significa niente allora il costo di una gibson es 335 che ha il chitarrista dei we are domi e si aggira intorno dai 2500 ai 5000 euro e non si sente una nota di chitarra in questa canzone però è sicuramente un pezzo della discoteca insomma che ha una che un suo appeal potrebbe diventare un qualsiasi jingle di una qualsiasi compagnia telefonica a caso scegliete e molti dei pezzi dell'eurovision hanno un po questo appeal che ne dici però proprio tra su da gioia vedi che le persone l'eurovision è una cosa adesso in questo 2022 sto parlando seriamente nel 2022 dopo tutto quello che è successo negli ultimi due anni anche al villaggio ho visto che le persone è talmente una baracconata meravigliosa che le persone sono proprio regredisce allo stato infantile bellissimo la repubblica cieca si è beccata a tre tutti tristi la repubblica cieca facciamo è un po' uno di quei risultati calcistici esagerati eh però è così Yamame Yamame Romania Yamame non mi sembra un termine romeno mi sa di latino americano un po' d'altri tempi adesso arriva il pezzo forte perché lui adesso ha questa camicia no? rossa con tutti questi sbuffi meravigliosi ma a un certo punto la camicia sparirà ok preparati perché siamo vicini al momento gauti e la camisa ok se non sbaglio in teoria musicale c'è un nome specifico c'è lo smutannamento e lo scamiciamento questa è la 22esima partecipazione della Romania se posso dire potevano anche evitare quest'anno di partecipare guarda mi dispiace aver essere stato così netto sulla Repubblica cieca a questo punto perché forse quasi un passo indietro vi immaginate che cosa succede per questo gruppo romeno che è stato all'Eurovision e in questo momento siccome noi conferiremo a lui tre sicuramente tre facce tristissime ha finito cioè non lo vedremo mai più all'Eurovision esatto ah sì certo il mondo si piega ai nostri Totocotugno mentre invece ora vi voglio molto attenti molto molto attenti perché arriviamo al momento e allora i Marò perché i Marò Marò sono questo ensemble portoghese che si esibiscono con una canzone molto molto bella che si intitola Saudade Saudade quello che mi piace comunque è che dovevamo dire ma come facciamo a far capire che siamo portoghesi basta dire Saudade forse conviene dirlo due volte fermi questa è l'unica canzone dell'Eurovision da ascoltare insieme a quella dell'Armenia io faccio un pronostico questa canzone è nelle prime cinque anche secondo me Saudade Saudade com'è il ritmo Gigi? guardate il pubblico come reagisce ma lei si chiama Maro si chiamano Le Maro se dovessimo essere sinceri cioè quali artisti voi conoscevate dell'Eurovision prima di questa edizione? cioè molto probabilmente naturalmente Mamoud e Blanco a parte perché essendo italiani li avremmo conosciuti beh se i Derasmus sono i Derasmus che ascoltavo le media allora loro si infatti quello che volevo dire i Derasmus sono gli unici ma Federico Sacchi no beh l'inglese lo conoscevo dai conoscevi l'inglese? l'inglese ma beh certo Gigi ma hai presente le visualizzazioni che ha fatto quest'uomo durante il lockdown? no eh ma te stai a Rivoli a Rivoli queste cose non arrivano ci sono i Derasmus comunque Derasmus uno dei pochi gruppi col palloncino così con citazioni di Hit comunque è invecchiato da paura ha l'attaccatura un po' alta se l'ha sempre avuta un pochino alta comunque questo è un buon pezzo è un buon pezzo cioè questo è un pezzo che può andare ha qualcosa di Bon Jovi non so se ma non ragazzi che ha solo la corda gialla fosforescente è un tocco comunque posso dirlo sono stato rapito dalla canzone di Erasmus ecco Sacchi ma perché nel nord Europa il metal va fortissimo? secondo te possiamo parlarne fino a domani mattina in quattro parole vabbè c'è una tradizione sono un sacco di gruppi bravi e nel momento in cui quella musica era forte sono state fatte delle politiche sociali per cui i musicisti cioè qua c'è il sussido di disoccupazione là un musicista si dimostrara di avere una band e cosa veniva pagato dallo Stato? per Erasmus? per Erasmus? ma proprio di brutto io ho recalcitrante invece recalcitrante tu Gigi la canzone passa invece Orso Mario Svizzero ha una canzone che se riducessimo i minimi termini dal mio punto di vista potrebbe anche essere una canzone godibile se fosse uscita nel 1958 ecco è un giro di do con una minorazione ad un certo punto bellissimo quando parte il ritornello si sentono parole come dice tutto è roto gli aeroplani possono cadere the mountains they can crumble che è un topos della canzone tutto può crollare o c'è anche l'aquilone che vola ha fatto un musicista di strada in Svizzera e in Germania e per quanto mi riguarda poteva continuare a farlo scusatemi ma ma in realtà secondo me è anche simpatico questo vabbè ma sì se vai in campeggio con lui un'estate ti diverti ti diverti sì ma anche sulla giacca ce l'ha cucito il cuore spezzato e ce l'avrà anche dopo che saprà gli esiti di queste votazioni gli è cascato il microfono Aia porta malissimo no no lo fa lui un gesto anti scheramanzia poi non queste cose della scheramanzia Gigi no eh anch'io comunque il notaio mi dispiace o per Orso Mario no vabbè l'Orso Mario anzi vi dirò di più me ne vado siamo arrivati al momento della Francia cantano in bretone eh già una canzone con temi diabolici parlano parlano del diablo di Udia Blu secondo me loro sono artefici di una canzone che rimane c'è stato un lungo periodo in cui si poteva solo cantare nella propria lingua come è giusto che sia secondo me comunque questa per me è un toto è un toto che ride di brutto sì anche per me un toto che ride ma di brutto nel frattempo c'è la cartolina dal lago di Scanno con i norvegesi i subwolfer questi sono i daft punk dell'idolo del ok io mi preparo per l'ascolto dei subwolfer è una canzone legata a capucetto a rosso e quindi ad un certo punto dice prima che il lupo mangi mia nonna dagli una banana questo è il senso del testo in realtà sono i subsonica travestiti sono i cinque se te lo vedi i casacci che fa il balletto la busta lo farebbe senza problemi lo farebbe benissimo tra l'altro quanto conta secondo voi tutta questa scena per il voto finale tantissimo tantissimo io direi per quanto riguarda Eurovision appunto è proprio una competizione 60 non lo so ma 40 sì è una competizione canora ma è una competizione televisiva in cui la coreografia è fondamentale e questa è una coreografia bella sono simpatici in norvegia quindi per me è toto per me è toto che ride ride tutta la vita ride ride nel frattempo Armenia gamba tesa con Rosaline doppia n con snap è uno dei miei pezzi preferiti quello di Rosaline in fondo una canzone un po' atipica nel panorama appunto un baiolo dell'Eurovision con una scenografia incredibile su twitter arriva un pensiero di tal Tostoini la svizzera manda in gara un commercialista vestito da George Michael dei tempi d'oro per la serata a karaoke purtroppo anche con la verve del commercialista di George Michael siamo d'accordo amici? abbastanza io l'ho bocciato per la giacca grazie Tostoini allora per Rosaline comunque io do sì dai sicuramente c'è Armenia no per me no per me è un no sai cosa? anch'io sai no perché mi assomigliava tantissimo a un'altra canzone che adesso sono a punta della lingua ma non mi viene Italia Italia è il momento dell'Italia questa qui ce l'ho vagamente presente siamo fuori dal mondiale ragazzi comunque scherzo a parte Brividi è una bellissima canzone dal mio punto di vista comunque Mahmood ha capito che ha perso è una bella canzone però sono troppo seri per l'Eurovision no ci sono canzoni che hanno vinto Eurovision così però li vedo comunque un po' fuori posto completamente fuori tono ma non non era pronto andare lì una delle cose che mi ha sempre affascinato di Brividi è l'idea che se fosse stata fatta da un compositore classico come un mattone degli anni 80 quindi tutte le canzoni che noi conosciamo del Sanremo degli anni 80 sono fatte da Claudio Mattone non sarebbe mai venuto in mente ad un compositore come Mattone di dire nudo con i brividi ma avrebbe detto avrebbe usato meno meno sillabe ok l'idea della trap è proprio l'incipito è qualche cosa che secondo me la generazione di Mahmoud e Blanco ha cioè l'idea di poter moltiplicare i sedicesimi o i trentaduesimi in alcuni casi e questo nudo con i brividi nessuno lo sente effettivamente quando viene cantato ma c'è ed è insolito nella scrittura di una canzone dire una parola che non è percepibile facilmente Gigi scusami ma io ho le lacrime agli occhi terribile cioè per adesso la peggiore esibizione dell'Eurovision è un po' come la scenografia stanno facendo acqua da tutte le parti è troppo giovane Blanco questa è una competizione troppo grossa lui è andato a Sanremo un po' così cioè è andato inconsapevole di quello che andava a fare c'era uno bravo insieme a lui è andato e ha detto vai ma si boh e si è trovato in mezzo a quella roba lì ma tra l'altro l'anno dopo hanno vinto i Maneskin quindi sai che anch'io vado di Coutugno ma no bocciatissimi per l'esibizione mi spiassi non per la canzone in sé no super bocciati Gigi potremmo sentire invece da Claudio Petronella se ci sono eventualmente delle reazioni all'esibizione piuttosto sottotono di Mamoud e Blanco hai cercato qualcosa sulla questione mi spiace davvero tanto doverlo dire dice Kat Shadow83 si chiama così ragazzi mi spiace davvero tanto doverlo dire ma l'assenza dell'autotune che all'Eurovision è vietato si è fatto un po' sentire soprattutto in Blanco esibizione decisamente inferiore a quella di Sanremo no penso che questo sia cioè mi spiace per Kat 83 ma non è cosa dice ma l'autotune è uno strumento ragazzi cioè è uno strumento come qualsiasi altro per esempio un compressore sulla voce viene messo sempre allora se facessimo Sanremo senza i compressori non sentiremo le voci come sono quindi perché non utilizzarlo all'Eurovision però non c'è non è consentito è una regola idiota non sono sicuro che al festival abbiano usato l'autotune secondo me non lo hanno usato non lo hanno usato però erano in bolla la Spagna la Spagna con slow mo comunque devo dire che in realtà questa qua non mi dispiace anche al di là del punto di vista estetico no non è vero non è vero non è vero perché rispetto al finto latinoamericano dell'inizio questa invece insomma questa è latinoamericana e spagnola almeno un po' più nel 2022 è una cantante che ha visto Rosalia per dire lei andrà abbastanza in alto comunque io comunque io vado a contocorrente la voto tu la voti io cubana la do la do vabbè io faccio un po' così un mezzo e mezzo un totto un po' triste e un po' allegro un po' triste e un po' allegro Paesi Bassi l'Olanda questa è brava questa è brava non una cosa incredibile però un'esibizione misurata ma Sio come il fumettista o S10 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 infatti stavo pensando prima che è una scelta suicida perché se tu su internet cerchi S10 ti spuntano fuori tutti i brani di Sio quanti paesi arrivano all'Eurovision stile Festival di Sanremo cioè nel senso Maudone e Blanco non è che hanno scelto di fare la loro canzone eh mi fai una domanda quanti sono allora in molti paesi c'è una competizione simile a Festival di Sanremo che però è proprio più incentrata sulla partecipazione all'Eurovision il paese può scegliere di mandare un rappresentante che in passato l'Italia ha scelto di mandare anche solo per esempio la Nina Zilli non aveva vinto Sanremo fu mandata negli ultimi anni tendenzialmente a meno che non ci sia una rinuncia particolare va a chi ha vinto ok ok attenzione ucraina stanno arrivando gli ucraini ok ok dai ucraini una considerazione che vi faccio mentre aspettiamo questo brano è vi rendete conto che con per esempio l'esibizione di quella che abbiamo appena ascoltato tutto l'apparato Lucie con quella cosa di Pink Floyd nel 1990 1987 ci avrebbero fatto un concerto intero quindi un immaginario che prima doveva essere creato con fatica invece in questo momento è la portata di tutti della canzone pop più insignificante allora hanno questo look appunto un misto tra trap vestiti tradizionali cioè tra rap vestiti tradizionali poi vediamo uno dei mammutones sardi che non so quale strumento suoni sull'estrema destra però hanno una coreografia che è molto interessante e molto legata anche alla scenografia e poi questa sorta di flauto quasi la unedda in realtà secondo me sono sardi la bellezza del rapper ucraino che quando arriverà a casa diranno com'è stato l'Eurovision non ho visto niente perché va sempre del cappello abbassato ma voi avete idea di quanto costa prendere un posto lì? quanto può costare? molti migliaia di euro dallo sguardo esterno questo è l'Eurovision proprio c'è un po' di tamaria c'è la roba super folk messa insieme in maniera divertente Gigi chiudiamo qua? ma io direi di sì va bene ci vediamo alla prossima andiamo grazie